Siamo notati Gesù e Maria, abbiamo ascoltato le letture della Domenica di Pasqua, molto belle, e supprimeremo la nostra attenzione oggi, in particolare sulla seconda lettura, la seconda lettura che richiama il testo della preghiera molto importante che ho letto all'inizio della Santa Missa, che ci introduce un pochino al senso della Pasqua per noi cristiani, io ho detto a nome di tutti a Dio, queste parole, ho padre che in questo giorno per mezzo di tuo unico figlio hai vinto la morte e ci hai aperto in passaggio la vita eterna, questa è la Pasqua, Gesù risolto dalla morte, ha distrutto, ha vinto il nemico supremo del mondo, che è la morte, e apre a noi il passaggio alla vita eterna, cioè nel suo nome ci dà la possibilità di ottenere il perdono dei peccati, la conciliazione con Dio e di superare l'impasse della morte con l'apertura del paradiso e la promessa della futura risurrezione della carne, questa è la Pasqua. Poi però, concedi a noi che celebriamo la Pasqua di risurrezione di essere rinnovati nel tuo spirito per rinascere nella luce del Signore risultato, questa è l'attualizzazione, cosa significa oggi per noi fare Pasqua, celebriamo la Pasqua di risurrezione e concedici di essere rinnovati nel tuo spirito con la S maiuscola, quindi nello spirito santo, per rinascere anche noi oggi, nonostante che siamo vivi, nella luce del Signore risultato. Cosa significa avuto questo? San Paolo nella seconda lettura ci ha detto queste splendide parole, le riprendiamo insieme. Togliete via il lievito vecchio per essere vasta nuova, poiché siete ansi. C'è un vecchio e c'è un uomo. La differenza che c'era tra Gesù prima della risurrezione e Gesù dopo la risurrezione è questa, Gesù dopo la risurrezione manifesta pienamente la sua bellezza divina, la sua natura divina e l'immortalità. È lo stesso di prima, ma non è più lo stesso. Allora, per noi, suoi discepoli, fare Pasqua significa Pasqua etimologicamente, proprio come significato del termine, significa passaggio. Sapete che la Pasqua antica, la Pasqua che Gesù ha celebrato, è l'attualizzazione della Pasqua ebraica. Cosa ricordavano che era il giorno di Pasqua? L'abbiamo letto questa notte, in una delle tante letture della veglia, il passaggio dalla schiavitù dell'Egitto alla libertà della Tera Comissima. Per noi c'è anche il passaggio dalle tenebre alla luce, la splendida liturgia della luce che abbiamo vissuto questa notte, e dalla morte del peccato alla vita della grazia. Ecco, questi passaggi fondamentali, però, devono autorizzarsi con dei cambiamenti concreti di vita. Pasqua significa passaggio, passaggio significa cambiamento, se lo vogliamo esprimere con un termine un pochino più vicino. Deve essere cambiato qualcosa. Ogni anno la Chiesa ci fa vivere la Quarissima e poi la Pasqua, perché di Pasqua in Pasqua, se noi lasciandoci guidare anche dalla sapienza della Chiesa, viviamo bene in questi momenti, la nostra vita cristiana ha dei passaggi, si dice anche di parlare comune, no? Ha dei passaggi di qualità, ha dei salti di qualità, ha dei cambiamenti in meglio, perché noi stiamo camminando tutti quanti verso la vita eterna. Camminiamo in quanto cristiani verso la santità. La santità non è una cosa che si raggiunge, capite, schiocchiamo, schioccando il dito, oppure in un giorno. È un cammino, un percorso. Come in ogni percorso ci sono delle tappe fondamentali, delle svolte di vita, dei passaggi. Ecco, questa cosa Gesù ce la mette a disposizione, però chiaramente dipende da come noi reagiamo, rispondiamo alle sue chiamate. Allora San Paolo ci ha dato una piccola indicazione. Che significa vecchio e nuovo? È una piccola tra le tante. Dice, la lettura era molto breve, ce ne abbiamo dunque la festa di Pasqua, non con il lievito vecchio, cioè, quale sarebbe il lievito vecchio? Lievito, no? Poco, poco, veramente adotto. Lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità. Capite? Il malizioso chi è? Il malizioso è quello che vede, il male dappertutto. Dicevo questa notte, e ripeto oggi, non mi ricordo se stanotte o ieri, che non ho detto le tante celebrazioni, che sapete qual è un grande segno di cambiamento, un cambiamento buono, un cambiamento che ci avvicina alla vita di Gesù risorto? Che non siamo più maliziosi, ma siamo benigni e benevoli. Benigni non perché diventiamo come l'attore, benigni nel senso che diventiamo benigni, cioè ardenti nel bene e benevoli, quindi che vogliamo bene. Che significa questo qui? Nei confronti del prossimo cominciamo a vedere le cose belle che c'è. Il malizioso, il maligno, ogni cosa che vuole fare comincia a pensare male, comincia a giudicare e poi chiacchiera e poi spalla. Il benevolo? No. Quando vuole trovare qualcosa al prossimo, la giudica sempre il bene, non sta sempre a vedere il male dappertutto. È capace di riconoscere la bellezza altrui, le cose belle che faranno gli altri e di dire grazie. Al tempo stesso è capace di riconoscere, dicevo sempre questa notte, le cose belle che gli vengono da Dio. Dio ci regala tante cose belle, ci mette a disposizione tante cose belle. Siamo noi che molte volte non le vediamo, non le vogliamo vedere, oppure ci passano dinanzi senza che noi ce ne accorgiamo o le raccogliamo. Il Signore moltiplica le grazie che ci manda. una realtà che molti esseri umani trascorrono il tempo a sprecare le grazie di Dio o a farsi passare addosso, scimbolare addosso, occasioni di crescita, di conversione, di santificazione che il Signore gli mette davanti. E quindi non solo che rimangono sempre uguali, ma diventano un po' un po' peggio. Voi sapete che si dice nel parlare con uno, no? Quando uno invecchia e diventano un bambino, i difetti anziché passati sono come? È diventato grande, maturo e saggio, com'è che i difetti anziché cambiare? Meggiorano. Perché se noi non facciamo Pasqua ogni anima, quindi non ci rinnoviamo continuamente, la nostra anima fa un po' la finta di quello che fa il nostro corpo, quindi gradualmente si sfalda, si scompone, si degrana, capito? Perché la legge dello spirito è simile alla legge del corpo, capite? Vi faccio un esempio. Quante volte a settimana, speriamo spesso, ci facciamo la doccia? La doccia al giorno del Pasqua, è certo. Ecco qui, spero che ci laviamo a capire di farci la doccia tutti i giorni, magari non troppo approfonditamente, d'accordo? Ecco, ma secondo voi la nostra anima c'è bisogno di fare qualche bagnetto, o no? Si lava l'anima? O no? Sì o no? Il battesimo fatto con l'acqua, non senza motivo, all'inizio della missa, guardate che l'aspersione dominicale, l'ho spiegato questa notte, no? Quando passo, non è una cosa fatta tanto per farlo, perché è una fissazione di Don Leonardo, quel gesto è raccomandato dal messale romano per le domeniche, perché quell'acqua? Quello sostituisce l'acqua penitenziale, ci avete fatto caso, no? Quindi anziché dire confesso a Dio Onipotente, io passo e che significa quello lì? Significa guarda che la mia anima, sicuramente sei un pochino macchiata, adesso ci buttiamo addosso un po' d'acqua santa, però quell'acqua santa mi ricorda che io sono un peccatore, quindi che oltre che all'acqua santa, ogni tanto deve affacciare un po' confessionale, capito? La confessione che attualizza il battesimo è il bagno spirituale per la vostra anima, capite? Perché la Chiesa ci dice almeno a Pasqua confessati e adesso lo direi per fare la comunione, perché? Sentite una doscia, ma se uno si facesse la doscia una volta l'anno, all'arte 364 giorni, se possiamo stare vicino a voi, se ne comprasse qualche maschera antica, se no? Sponiamo un cristiano che non si confessa da dieci anni, capite? Il problema è che le cose spirituali non hanno, come dire, riverberi sensibili, quindi se l'anima non si confessa da dieci anni, non è come quando un corpo non si lava da dieci anni che ci guardano ma non si sente niente, però per l'anima, anche se non lo sa, sta male, perché sta completamente sporcata da una, anche se non lo ha fatto da grossissimi peccati, i piccoli peccati della vita quotidiano, che continuamente si sporcano la nostra vita, e ha bisogno di essere punita, capite? La comunione, voi sapete cos'è la comunione? la comunione è per l'anima, non per niente che Gesù ha scelto il pane ansimo per essere consagrato, no? La comunione è per l'anima ciò che è 5 e più il corpo, vediamo un po', chi è che mangia una volta l'anno, alzi la mano, capite? Ti confesserai e farai la comunione a meno a Pasqua, è così detto un recetto Pasquale, capite perché la Chiesa ci dice queste cose, perché se non ti confessi, se non ti sei confessato non ti puoi fare la comunione, non ti farà come una Pasqua, la tua povera anima, per capire come sta, immagina di se tu non avessi mangiato per un anno, capite? Solo che la vostra anima non soffre sensibilmente, eh ma tutti quanti i tuoi malesseri che ci portiamo niente, gli uomini dicono padre sto male, padre non mi sento bene, padre sto depresso, padre mi sembra che mi era tutto scorto, non me ne aveva nulla a destra, non sto tranquillo, sto agitato, sto triste, sto così, sto colato, io sto zitto, d'accordo? Io vorrei dire, dopo se si amano un pochino, io non mi confesso da vent'anni, io non glielo dico le domande, e se non ti confessi da vent'anni figlio mio, ma come vuoi stare, capite? Come pretendi che sta diversamente possibile, capite? Cioè la cosa fondamentale è, chiudo, Gesù è morto in croce prima di essere risolto, perché cosa? Per darci la vita, la vita si trasmette a noi soprattutto quei sacramenti che si possono ripetere, quindi una persona che non impara ad usare bene i sacramenti, rende inutile la morte di nostro Signore, perché non è la stessa cosa, come si parla, guardi, lei non aveva in chiesa, però io ci penso tutti i giorni, faccio la preghiera, eccetera, eccetera, questa è una cosa molto buona, ma se il nostro Signore, volendo in croce, ci ha lasciato quei sacramenti, il nostro Signore, secondo voi, fa cose inutili, o è andato incontro a tutta quella mattanza, che spero che tutti ci abbia avvenzato in questa settimana, in questa settimana bisogna avvenzarci la superenza di Gesù, così, come se non c'avesse niente da fare, vuol dire che c'è qualcosa di importante, levate la pene della nostra persona, perché hanno ragione, fare Pasqua, quindi fare questi passaggi, significa dare delle svolte di qualità, del nostro cammino di fede, di anno in anno, approfittare di più delle grazie che il Signore ci mette davanti, accogliere le occasioni di conversione, riaccostarsi ai sacramenti, o cominciare ad accostarci su un po' meglio, un po' più di frequenza, altrimenti le Pasque ci scivolano addosso, ci facciamo gli auguri, anche oggi ce li faremo, non aspettate, la finita la messa che ci leggo a farvi di persona, faremo regolamente un buon pranzo di Pasqua, lo faccio pure io, è una cosa molto buona, ma Pasqua è anche molto di più, ecco, cerchiamo di vivere il molto di più che il Signore desidera che viviamo, perché la nostra gioia sia piena e perché la nostra vita sia davvero più bella, perché vivere in comunione con Gesù significa vivere davvero il benessere, quella vita eterna, la risurrezione di Gesù, ci ha conquistato e donato. Siamo notati Gesù e Maria. Sempre siano notati.